Ciao a tutti, sono Jessica e sono qui per raccontarvi della mia storia. È da dieci anni che soffro di una malattia rara che si chiama idrosadenite. Questa malattia prende prevalentemente gli uomini quando accade alle donne molto più aggressiva e consiste nella fuoriuscita di cisti in posti scomodi e dolorosi, sono molto dolorosi. Tanto che quando capitava a me io rimanevo allettata completamente per settimane perché la ciste andava a pesare sul muscolo e mi si infiammava tutta la gamba. Ho girato diversi ospedali d'Italia, ho girato vari medici, ho ascoltato un sacco di pareri in tutti questi anni ma non ho mai realmente trovato empatia, non ho mai realmente trovato le parole giuste né la soluzione. Mi hanno operato varie volte ma non era appunto la soluzione. Fino a quando, quattro mesi fa, una mia carissima amica mi ha dato il contatto dello studio DNA di Milano. Era l'ultima carta che potevo giocarmi, quindi ho provato, sono andata e ho incontrato la dottoressa Iannicelli. Qui realmente ho trovato una persona davanti, prima che un medico, che mi ha trasmesso empatia, gentilezza e comprensione. E ho iniziato con lei questo percorso che ha portato realmente beneficio al mio corpo e per me è stato un miracolo perché per tre mesi consecutivi ho visto un risultato quando prima non esistevano risultati con tutti i farmaci che prendevo. Attualmente, semplicemente con una sala alimentazione ad hoc per me, io sto bene, non ho più cissi, non soffro più di questa cosa e io ringrazio lo studio DNA, ringrazio Dio, perché realmente per me è un miracolo.